Siamo nella bellissima piazza del popolo a Borgata Costiera, siamo ritornati in campo dopo tre anni di stop, causa anche pandemia. Siamo lavorando nuovamente per lo splendido evento, la festa del pane e della pasta, siamo alla quinta edizione. Finalmente si ricomincia, si torna in piazza. Abbiamo iniziato giorno 10 con il cantiere della festa e oggi siamo qui dove anche gli artisti coordinati da Gerry Bianco, dall'architetto Gerry Bianco, stanno realizzando degli splendidi murales. La festa del pane e della pasta è una tradizione importante per noi ed è praticamente la festa dell'integrazione, la festa dell'amicizia. Ci sono già le donne della Borgata insieme alle altre parrocchie che stanno realizzando i pani della tradizione. Ma la festa del pane non è soltanto pane devozionale, ma è una miscellania di colori, di sapori, di odori. E quindi vi aspettiamo numerosi a Borgata Costiera, 7, 8 e 9, per vedere anche gli spettacoli, importanti spettacoli coordinati dal direttore artistico, da Alessandra Lamia e dall'ideatore della festa del pane, Francesco Poggia. La Proloco fin dall'inizio ha sposato l'iniziativa ed è ancora qui a Borgata Costiera, è scesa nuovamente in campo per regalarvi delle serate magiche. Vi aspettiamo numerosi.